Espi ci si è allagata di nuovo la cantina dammi una mano ad asciugare qua ci si è allagata la cantina ma quale cantina Luca questa è spita ma questa questa non è la cantina il bagno scusami Ma come il bagno che schifo ma certo ma non ti sei reso conto secondo te dove la faccio io ho sempre tenuto il cibo Ah benissimo allora oh oh no 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 aspetta c'è posta c'è posta c'è posta si 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 C'è posta sei sicuro dimmi che è quello che credo dimmi che è quello che credo Espi è il concorso è il concorso ma che concorso non mi ha detto niente a me Dobbiamo dobbiamo andare a vedere subito se abbiamo vinto Eh vabbè ti spiego in fretta ho messo in palio la nostra casa Come in palio la nostra casa? La scommessa E se la perdevamo una scommessa illegale clandestina con la nostra casa Non è che è granchessa casa eh Forse abbiamo vinto se ci hanno contattato vuol dire che siamo nell'estrazione finale Espi E praticamente E cos'è che possiamo aver vinto? Spiego è tipo quei programmi di scambio casa no? Cioè noi diamo la nostra casa e ce ne danno un'altra E in questo caso Espi questa edizione è una da super ricchi Davvero? Quindi noi a quel povero sfortunato gli diamo questa casa di terra e noi ci becchiamo la casa super ricchi? Esatto Il ricco si becca la casa povera e noi che siamo poveri Vabbè noi ci becchiamo la casa ricca E forse abbiamo vinto E allora andiamo Luca cosa aspetti? Tanto non ho niente da prendere ho tanto questi stecchini da parte Andiamo Aspetta la carne la carne la mia carne Assolutamente non guarda che la c'è Cioè se abbiamo vinto davvero è speciale quante ne vuoi di cibo Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Durante il viaggio mi affamerò un sacco Andiamo È stato veramente un affarone Oltre la casa ci siamo biglietti pure noi yacht Ci siamo arrivati Siamo arrivati Abbiamo arrivati Abbiamo apparcheggiato Oh guarda che bello Questo viaggio è stato il più confortevole che abbia mai trascorso in vita mia Io non ci credo che ci hanno dato la super casa e lo yacht Luca ma la nostra casa è un ponte? Cos'è questa cosa? Ma non è il ponte Qua dietro è sulla scoliera Non si vede da quale Io l'ho vista in foto Quindi so un po' cosa c'è Ma tu non hai idea C'è venuto pure a prendere qualcuno Mi sa che il nostro maggiordomo Dai saliamo Su questo motoscafo E andiamo a trovare la nostra nuova casa Sbrigati Sbrigati E quindi questa sarebbe la nostra casa Palme Eccolo qua il cancello d'ingresso Ma pure un cancello d'ingresso Fatto così molto molto strano E ha pure un codice Davvero un codice Me l'ero segnato Oh mio dio ma Si è aperto In maniera automatica Che spettacolo Aspetta ma abbiamo anche della servitù O comunque qualcuno Qualcuno che ci Dovrebbe essere un maggiordomo E uno che è stato il pilota dell'auto Ci dovrebbe essere un maggiordomo Quello e sta qui a casaccio Salve Quello non l'ho mai visto Magari è un venditore porta a porta Che si è in truffo Oh no Oh no È minaccioso Ma chi è questo coso Perché è una spada Perché è una spada di legno Ma lo conosci tu Prendilo Prendilo Ma aspetta Adesso che lo guardo bene Ma sì Ma sì Ma è Giampiero Espi Come è Giampiero Ma lo conosci questo coso Quello che abita tipo di fianco no Ma sì Quello che abita È quello che abita Nel buco accanto a noi Regione Sì Nella palude Lì Quel postato Perché è qui Che continua a colpirci È invidioso È invidioso Espi Deve aver saputo la nostra casa Vuole rubarcela Che cosa ti è successo Non lo so Eh porca miseria però Ok Sei vivo È sparato in aria Però ha droppato Ha droppato la spada di legno Ok forse riusciamo a difenderci Nel caso in cui ci sia qualcos'altro Era invidioso Ma che disgraziato Ci vuole rovinare tutta la festa Come ha fatto a sapere che questa nostra casa Hanno intercettato la nostra posta Allora Eh oddio Eh forse Eh forse ho messo qualche striscione Che dice Ah ti sei vantato Ecco Come al solito Può essere Vabbè Però scusa È il minimo Ecco che c'era un altro ancora No Luca Non possiamo affrontarle tutti Però così Non sono preparato al combattimento Lo vedi Guarda Oh mio Dio Cos'è questa cosa Ok Ma è spettacolare È bellissima Ma ci si può che fare il bagno Ti ha visto No ti ha visto Ah ti ha visto Questo non so chi sia Sarà il cucino Ha portato Sto alla famiglia E ha pure una E ha pure una vanga Ok prendilo 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 Fanno a negare sotto Sotto i giatti della fontana E di giù Tu hai la spada Doi doi Sono invidioso sei Prendilo Oh guarda come è schiattato Non ha droppato la pala Peccato Ok perfetto Prendila e armati Luca Che non si sa mai Io però inizio a aver paura E se entriamo Sentriamo qui E c'è un'imboscata Come tu che ci stanno aspettando Sullo zerbino di casa Ok ok Facciamo così Facciamo così Dovrebbe essere il garage L'ho visto qua prima Oh il garage Si scende giù Ma cosa è questa nave spaziale Se l'aspettano Non si sa Spettacolare Anche il garage È protetto Ma si apre automaticamente Salve C'è qualcuno qui Ok finalmente Un po' di tranquillità La sprovvista Se li prendiamo da dietro Adesso Sono sicuramente tutti Di dove c'è La porta d'ingresso Mi piace come idea Però Le macchine C'è Prendilo No nazione Se la scossa Tutto le colonne Non è possibile Ma è pieno Vieni qua Vieni qua Se ne ha profittato Che eravamo distratti A guardare le automobili Io ti stavo per chiedere Luca Ma queste automobili Ce le danno Oppure rimangono al proprietario È tutto incluso Eh Mi piace Ma qui C'è Proprietario Espi Quanto sarà arrabbiato Quello lì Non so perché Perché ha accettato Di fare sta cosa Si ritrovare La nostra casa Con la cantina Ma non lo so Magari Magari Sperava di trovarne Una ancora più ricca Se è possibile Però noi ce l'abbiamo Giadagnato alla grande E questo cos'è Che cosa Luca Luca Non distratti troppo Ma sempre qua Ma sempre Non si può nemmeno vedere E inutile Che ti distraigo Questi meccanismi Sì Però mi stai confondendo Non picchiarmi Mi hai picchiato Luca Prendilo Non è vero Dannazione Questi newbie Sempre Sempre invidiosi Ok Ok Andate Schiattato Ti dai Luca Non stare qui A giocare con le cose Che ti fai male Poi 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 ti schiacci E' un problema Ma c'è Tu non hai ancora visto Niente Piano superiore Ovvio Quindi questa è l'entrata secondaria Qui non ci troveranno E ultime parole famose Ma dai Non è possibile Vai giù E non robe Vai a farti un giro in auto Tanto non la sai guidare Espi Qua c'è la televisione Ma aspetta Ma questa cosa è molto molto strana Luca Me ne avevano parlato Sto un giro telecomando Ma perché torna a vendicare Beccati questo E imparamentarti la crema solare La prossima volta Era completamente uschionato Prova ad accenderla Funziona veramente E certo che funziona È tutto funzionale In questa casa Ma aspetta Mi è comparso Mi è comparso qui in basso a sinistra Posso C'è pure la Wii Posso accenderla Oh la madonna Guarda Si può accendere veramente Siamo su MTV Cosa c'è una Una banda di zombie Che suonano Ok aspetta Non se possiamo cambiare canale Cambia canale Ok Secondo canale Oh che carino Ok questo penso che sia Pimp My Ride Invece Prossimo Oh la Wii La Wii Guarda è qua di fianco Perfetto No aspetta Fa troppo casino Però spegniamola Mi sa che dobbiamo anche aggiustarlo È tutto rotto Non riesce a spegnerla Finalmente Porca miseria Io non ho mai visto una televisione in Minecraft Così bella E c'è poco segnale Sicuramente ci stanno disturbando il segno Oh e guarda qui cosa abbiamo Luca sì però non ci stiamo godendo Luca La ne vedo Uno No 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 via 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 Luca senti non possiamo continuare così Dimmi 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 Andiamo via Ho un piano Che potrebbe cambiare le cose Se potrebbe farci godere un po' questa casa Luca non possiamo combattere Con questi noob all'infinito Dobbiamo Ma dobbiamo pur scacciarli Eh beh ovvio Ah voi semplicemente fagli più male Ok Esattamente Soprattutto in maniera più comoda Ma non griffiamoci la casa nuova Non che non griffo la casa Lo metti la fogli vero? Io sono un lavatore molto abile Guarda che ti mostro Fammi vedere Non fare casino No che non faccio casino Mi conosci Non faccio mai casino Ok no forse sì A volte faccio casino Ma in questo caso no Vieni qua bel niubetto Voglio vedere come te la chiavi Zack Guarda Un colpo secco Ed ecco che va a fuoco E ora qualche colpo Brucia Finale Siete solo invidiosi Oh una spada anche per me Perfetto una spada per te Luca Equipaggiala E non si sa mai Magari ci stanno aspettando in bagno Quando siamo più vulnerabili E siamo seduti lì La palestra Espi Così finalmente possiamo farci forti E sovrattutto tu puoi prepararti Per la prova costume E insomma sei All'incirca a posto Andrò sul tapirulano Ma funziona veramente Questo tapirulano? Certo Provalo Come? Mi tira indietro Soltanto camminando Posso andare avanti No dai Spettacolare È bellissimo Vediamo Guarda Guarda Aspetta Guarda come sto Ok sono caduto Non è molto facile Stare in equilibrio Ma non si usa così Ma andiamo avanti Va Non insegnarmi mica come si usa Il tapirulano Hai portato le cotolette Che io favo Ah no Non ho portato le cotolette In realtà Me le sono mangiate Durante il viaggio Lo sai Che durante i viaggi Mi viene sempre male Che c'è la cucina Ah eccolo Oh eccolo Eh ma cos'è questo Il presidente degli statunetti È così elegante Dagli fuoco Dagli fuoco Ok aspetta vieni qua Oh no Oh no Oh no Prendi In un attimo Qui abbiamo Qui abbiamo Il frigorifero Ma che ci sono Un sacco di biscotti Vediamo Me li dai Biscotti Me li dai Mi ha dato un ghiaccio No che spettacolo Lascia stare il frigo Guarda qua cosa c'è Un microonde E scherzando Si apre Luca hai qualcosa Da cuocere Magari Fa riprendere qualcosa Dal frigo Ecco bravo È pieno Magari dentro Trovi roba E nel frattempo Guarda che non ci siano Altri noob Invidiosi La metto sul fuoco No Prova a metterla Direttamente qui Il microonde Ma lì dentro Io non c'ho voglia Di aspettare La carne al microonde Non piace Tutta la mangi D'accordo È più veloce Sai io Fa me abbastanza Ora Subito Sta cucinando Ma si sta cucinando Veramente sia una parte Sia dall'altra Questa è mia Dai però al micro Oh dai Ma pure il suo rumore Quando è pronto Hai sentito È bellissimo No vabbè Questo assolutamente Ce lo portiamo a casa Prima di andare via Sì hai dimenticato La carne sul fuoco Tutta la sei dimenticata Eri tu che Ecco che è diventata carbone Ma porca miseria Luca Era quella la tua carne Sempre a buttare via cibo Ok Luca A questo punto Io direi di passare Le parti più ricche Di questa casa La camera da letto Aspetta Aspetta Che cosa? Di qua c'è anche l'ingresso Sicuramente è tutto Molto sorvegliato E pieno di gente Prendi un po' di queste Cose sono queste cose? Uova? Uova di creeper? Sono granate creeper S.B.E. Sono granate creeper Una cosa che ho trovato In Vietnam Quei posti lì Insomma sì Ok Molto strana Che cosa Usa le tè Ti fidi di me? Oh non ci credo È proprio per questo Anche perché Con la mia spadina Sono Guardalo Oh eccoli Porca miseria No No Fatti lontani Fatti lontani Aspetta Aspetta Usa Entrambi con una Granata sola Ok Forse ho preso anche te Però Hai visto che Era un disastro L'ho fatto Porca miseria E qui cosa abbiamo Io ho visto prima Che c'era Un pianoforte Ma è bellissimo Questo non mi avevano detto Che c'era Ma lo sai suonare Luca? Ehi senti Proprio intonatissimo È qualcosa di Spettacolare Un talento naturale Luca Luca Non agitare la testa Che sembri spastico Aspetta Favolo Farò provare A me Funziona Provalo Ce la faccio anch'io suonarlo No ma è bellissimo Possiamo suonare in due Aspetta La prossima volta Chiamiamo crypto E gli facciamo suonare Paperella game Bellissimo Spettacolare Che Basta Basta Io questa settimana In questa casa Nella godrola grande Questi Alfred Penso che sia Nostro Maggiordomo Questa nostra sala di unioni Per gestire la casa Sai gestire questa casa È una cosa abbastanza Impegnativa Che pure il guardaroba Gli appendi abiti Io mi sa che questi Cosi diamanti Me li frego Anche Perfetto Ti dona Ti dona E di qua Ah di qua c'è l'entrato Andiamo a vedere le camere Mi piace un sacco Come idea E poi luca Per caso questa casa Non lo so qualcosa Qualche cosa di segreto Perché normalmente Tu trovi sempre case Un po' particolari È certo che ha qualcosa Di speciale Se no non l'avrei mica Accettata Deve essere Un po' Un po' Interessante E ti dico Quindi cos'ha Solo che c'è una zona Segreta Sotterranea Una segreta Dopo andiamo a dare Assolutamente un'occhiata Magari c'è Ma che bella ricchezza Oh bello ufficio Mamma mia Mi piace Secondo me Il mouse I tasti sono un pochino Pesantucci Visto che sono di pietra Ma per il resto È un computer Veramente Ben fatto Lo schermo È abbastanza Lo schermo curvo Io sto qui luca Tu Ma ce n'è ancora Da vedere Vieni 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 Questa è la tua camera Da letto Beh dai Un pochino Il soffitto è un pochino Basso Ma non è così male L'ho fatto a preparare A posto brutta Perché so che non ti piacciono I letti belli E adesso ti faccio vedere La mia Come chissà che non mi piacciono I letti belli Invece la tua com'è Oddio Cos'è sto schifo Oddio Cos'è sto Oh Granata Granata Scusami luca Ho dovuto farlo Mi ha fatto un sacco di paura Quel cosa Veramente me la sono fatta sotto Qua Qua C'è invece camera mia Con un letto decente Ma Ma cos'è una macchina da corsa Questo letto È una zacca È un pello È un motoscafo Particolare Ma dove è il motore Scusami È un motoscafo Stare in motoscafi Vieni a vedere il bagno Ok d'accordo Perché è quello più bello di tutti Strano Pensavo che il bagno rosa Se lo fossi tenuto Sondato per te C'è la doccia E la madonna Sembra di stare Nella foresta fluviale Quando arrivano l'acquazzone Madonna È bellissimo Il lavandino Oh Spettacolare E poi qui cosa abbiamo Questa non l'avevo mai vista Guarda Vediamo È bella È un po' È un po' imbarazzante Fare il bagno insieme Però per il resto è bella È otomatica Vabbè È solo rinfrescante Non raccontarlo a nessuno Che abbiamo fatto il bagno insieme Ok Sì esatto Che altro Mostrami sta base segreta Che sono curioso Eccolo lì Dannazione Cosa sta facendo Sta proteggendo l'ascensore No la granata Non la posso usare Qua è delicata Come zona Ha detto Che ci sarebbe stato qualcuno Ma Menomale Che scarpine carine Che ha Ha tipo di coriglietti Come scarpine Bruttissimo Ma come è bruttissimo Lo che le volevo anche io Peccato che non l'abbia droppato Va bene dai Guarda Un'ascensore Andiamo Uno degli ascensori Più belli Che io abbia mai visto Andiamo verso la zona segreta Dai portami Scegli pure Che ci sono un tacco di piani Vabbè Scegli tu Che io sono costoso Di questi numeri Premi il tastotto D'accordo Andiamo verso il piano Più segreto di tutti Ancora un paio di piani Dovremmo arrivare Quello qua sotto È Guarda Quanto profonda È una zona di relax Assoluta Posso dire Che era La caverna personale Guarda qua È una Davvero È tipo la batcaverna Bellissima Cos'è questa cosa È una Dovina qua cosa puoi fare Mi sa che è tipo una Una parete per l'arrampicata O sbaglio Funziona C'hai azzeccato Sì Mi sto arrampicando No dai Bellissima questa cosa Guarda che roba Aspetta però Voglio arrampicarti ovunque Voglio provare a fare un po' di parkour Ah No Piano Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Guarda che se cadi sei assicurato Davvero Vero Non fa male Assolutamente Oh Non rimbalzi pure Beh è spettacolare questa cosa Qui invece abbiamo Una piscina Ci sono pure i trampolini segreti Guarda Faccio una bella gara di tuffi Guardati che tuffo faccio Luca non esagerare Questo trampolino è piuttosto alto Dammi un punteggio D'accordo C'è andato giù a bomba 0 0 1 forse Ma come Guardi invece a me Era almeno 10 punti Ho toccato pure il fondo A chiodo Non ti sei chiesto che cos'era Quella specie di cosa chiusa Di fianco all'ascensore Espi No in effetti Ma Dio è tipo Un altro ascensore ancora È una camera del vento Come una camera del vento È una turbina Praticamente tu ti butti al centro E voli verso l'alto No è spettacolare Guarda in alto Guarda in alto E dopo cosa succede Si Si apre È molto più veloce Della scena Eh no Si è chiusa però E l'hai chiusa in faccia Ok Ok ora ci sono Qui abbiamo Un'altra televisione al plasma Mio dio Luca Abbiamo fatto veramente bene A scambiare la nostra casa Con questa villa Questa reggia di lusso Mi hanno detto che c'è anche un elicottero Forse Però non so se ce l'hanno Potremmo dare un'occhiata Per atterrare Andiamo a vedere Ma secondo te funziona veramente? Hanno addirittura un elicottero Sti detti qua Cos'è? Cos'è? Oh no Quello è un elicottero Attento Forica miseria È un nebo gigante È un bambino gigante No 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 Secondo me l'hanno chiamato Certo come è? Perché tutti gli altri hanno fallito Certo Allora fa Fa in modo Di essere l'esca Così lo compisco le spalle Ah no 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 Ah no 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 Ah 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 Luca Spero Fidato Abbita Meno male Che non prendo danno da caduta Ok È fantastico Questo Almeno Non prendiamo danno Guarda con la schivata Guarda con la schivata Prendilo Lo sto prendendo Basta 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 però Ti prendo la granata Boom Guardalo 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 Non hai fatto male Sicuro Dai Beccati Ti prendo la fontana O nel garage Ok Secondo me non si lava Abbastanza Mi fa un bel bagnetto Nella fontana Mi ho avvelenato Questo coso Dai Giù Giù Oh no 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 E vabbè ma io sto volando Io sto volando Ce l'hai fatta Funzionato Dai L'hai steso Che spettacolo Luca Andiamo via Andiamo via Non ci credo Via 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 Assolutamente Luca Aspetta aspetta Fermo Girati Hai una freccia Nell'occhio Vabbè non importa Andiamo avanti E tu ce l'hai nei baffi Smettila Non è fermi I baffi sono sempre perfetti Bravo Ok così E questo è fuori Fuori Aspetta che la recupero io Luca per fortuna Che la polizia ha portato via Quei newbie Adesso possiamo giocare Tranquillamente Si sta benissimo È spettacolare la casa Quella era dentro E' un'altra volta Sembramente scarso Nenis Era riga Però Luca dobbiamo sbrigarci Perché tra poco Dobbiamo tornare a casa È quasi già finita La settimana La pacchia è quasi finita Ah dannazione Ok sono brocco anch'io Devo ammetterlo Dai andiamo a fare i bagagli Dobbiamo andare ormai Oh no Espi C'è stato un incendio Cosa Stai scazzando Corri 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 Dobbiamo spegnere Magari lasciato acceso il gas Ah no aspetta Noi non avevamo il gas Non avevamo nemmeno la cucina Ma quanta lava Vi odio Voi la vostra casa La settimana più brutta di sempre Mi sa che un messaggio Luca non è il momento Di morire adesso Mi sa che un messaggio Del proprietario Luca Secondo me No è quello della casa Super ricca Esatto Non mi è piaciuto molto La nostra casa Super povere Guarda Ora ce l'ha griffata Non possiamo nemmeno ripararla È un disastro Ci sono pozze di lava ovunque Come facciamo ora Meno male che io Ho sgraffignato qualcosina Dalla cassaforte Davvero? Così non mi sento in colpa Vendetta in servita Ora tornerà a casa E scoprirà di essere lui Quello super povero Sei un genio Luca Abbiamo vinto tutto oggi Si impara Ti potremmo costruire La casa i nostri sogni Ce l'hanno anche dentro Abbandona pure questa catapecchia E evita di morire un'altra volta ancora Per cortesia